Musica Ok guys, eccoci ritornati con un nuovo video Questa volta il primo episodio su Call of Duty Advanced Warfare La prima episodio di Road to 300 Headshot Iniziamo subito, allora recupera profilo Dato che non ho creato quasi nulla Allora, benvenuta a malattia, giocatore, multigiocatore di Advanced Warfare Ah no, ma dentro lo studio, grazie per aver giocato Basta che non mi dici che devo pagare online Ok Questa settimana Prengazzia tutta la comune, ti piace se ti fai i piedoppi Oh Yeah, meno male che ci giocano il weekend Fuck Non è per... non voglio discriminare nessuno Perché, balestra cosa? Allora, no Ehm... operativo Ehm... come cacchio si chiede Cioè, come faccio a cambiare? Eh Eh, la faccio, non la posso cambiare, figa Boh Boh Vabbè Eh, crea un account Call of Duty Per forza Vabbè, boh Vabbè, qui salto e ci vediamo direttamente dopo, guys Guardate l'interruzione, adesso possiamo giocare online Allora, qua non posso modificare nulla Allora, vabbè Tattico e alto Ok, ci sta Trova partita Allora, dovrei... ehm... Intanto troviamo Deathmatch a squadra in una prima modalità Allora, vediamo le classi Beh, diciamo non sono malaccio Ehm... allora Questa serie mi è stata consigliata da Ehm... MaxiGT1 Che ringrazio Per... Avermi dato queste idee, appunto Ehm... cosa consiste queste idee? Vabbè, si spiega da sola, diciamo La... Ehm... Ah, posso votare? Vabbè, per me è uguale Dato che potete vedere anche dal... Dal Gamertag Ehm... Dall'ID più che altro Che sono ancora a livello 1 Perché appunto non ho giocato online per niente Quindi non... appunto per poter iniziare con voi Per iniziare questo, diciamo Road to 300... 300 headshot pitch Ehm... appunto La guida consiste in Fare, realizzare Ehm... in totale 300 headshot Questo è come obiettivo Sembra una cagata Può sembrare stupido Ma in realtà è una... Secondo me ci vorrà un bel po' a farlo Ehm... intanto Allora... per... Non ho capito perché sono di colore Però non è... non voglio Person... Oh, finalmente Non è... voglio... Non descrivino nessuno Però... Dato che ci sono, modifico Vediamo... Può sembrare quello più adatto a me Per il momento mi sembra questo qui dov'è? Questo qui mi sembra più figo Allora... Ehm... Completo uno Boh... vabbè Occhiali Vabbè Come lasciamo perdere? Iniziamo subito la partita Retreat Deathmatch a squadra Allora... Ehm... Come mi trovo su Call of Duty Su PS3? Bene Inizio ho avuto un po' di difficoltà Nel senso che Ehm... Perché ho... Ho dovuto Diciamo imparare un po' i tasti Perché... non imparare i tasti Perché diciamo Avevo ancora il vizio di premere questo Per mirare questo Per sparare questi due Per lanciare granate Spero di non fare questi fail online Anche durante la serie E le cuffie non sono per sentire l'audio di gioco Ma servono per registrare la voce Infatti... Vabbè lo potete sentire da voi Che la voce è quella Allora... Bilanciata Cecchino Vediamo Vado per la prima Va... Leggero Vabbè Vediamo allora quante tacche ho Oh minchia Quattro... Tre tacche buono Cioè è arrivato a quattro tacche quasi Allora... Va bene Allora... Avviso che non sono un pro Dobbiamo cercare solamente di fare gli headshot Ventre non è che per ogni... Allora... Già ne vedo uno lì Siete che qua Mi sa che qua Ok Che questo... Ah va bene Dai Prima uccisione Grande L'ho fregato col doppio salto Noo Vaffanculo Bastardo Allora Dobbiamo cercare di fare gli headshot Quindi cerco di concentrare... Eccolo lì L'ho visto No No niente Ancora nulla No Bastardi In due Almeno un headshot voglio farlo Dai cazzo Eh porca Porca Ce n'erano tre Ne avessi pre... Oh porca miseria dietro Bastardo Come siamo messi come connessione? Eh quattro tacche fisse Figa Cioè su PS3 ho più connessione che su Xbox? Buono Lol Porca miseria Perchè? Perchè? Allora Là ne vedo... No Devo... No bastardo Ma dai No ma dai Con lo scudo Ma dai Che palle Adesso iniziano a spammare A camperarsi A fa... Ho le granate Porca No ma dai Non mi fregate le uccisioni Mi sa che là c'è qualcuno Eh un bel po' Ah là è uno scudo Oh Fatto headshot? No Promozione Grado 2 Grande Andiamo Prosegu... Allora Là ne vedo uno Ah ma questo Non ne ho granate Ho gli scudi della minchia No No e dai Volevo fare headshot Ho fatto l'assist Vabbè Non ho capito se le uccisioni qua valgono 50 punti o 100 punti Dato che appunto C'hanno i pie doppi Allora Là ne vedo uno Vedo uno Headshot Colpo alla testa E vai Primo No Ti fotti Signore Devo smettere di cercare di minare la testa Altrimenti qua faccio dei fail assurdi Non mi rompere tu Eravamo partiti tanto bene No Vaffanculo Mi ha colpito Mi ha dato un pugno Grazie Grande Oh Regicida Quindi dovrò aver ucciso il primo della squadra per serie Grandissimo Carichiamo un po' Via Se lo prendo No Ma Vaffanculo Stiamo vincendo Stiamo vincendo Sto facendo 5 5-10 Che schifo Vai Un'altra uccisione Grandissimo Allora Devo stare attento Perché qua mi sa che ce ne sta qualcuno Ho paura da uscire Allora Con calma No Oh Quando i bambini fanno Oh Che cazzo c'entra Vai via 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 Lancia la granata Surprise Sto facendo schifo Sto facendo veramente schifo Allora Là ce ne sta qualcuno Stiamo cauti Eccolo qui E vai Oh E vai Headshot Bitch Vieni Vieni qua Bastardo Muori 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 Facciano morire E vai Surprise Motherfucker Ok ok Qui Perché Perché Là ce ne sta qualcuno Con me lancia la granata Qua dentro Secondo Ok Ok me la sono mandata indietro Come un pirla Allora Là ce ne sta uno L'ho visto Però l'ha già ucciso Ok Eccolo qui Eccolo qui Surprise Motherfucker Ce ne è uno lì sopra Però non mi devo distraire Chi cazzo è che spara Bastardo L'avevo visto Però qua ho notato una cosa Però qua ho notato una cosa In certi rientri Visto c'era un po' lento Inchia che mira Oh e vai Uccisione senza headshot Allora ho già realizzato Ho già realizzato qualche headshot Dai Supponiamo vada bene Dove Eh sti cazzi Allora ne vedo uno dietro Ma dove fighe Faccio il giro va L'ho tanato Ora viene di qua dai Oh oh E vai E vai E vai No ma dai Ma vaffanculo E vai Grande Fottiti Vabbè Dai Grado 5 Grandissimo Sto aumentando di grado In una maniera Lenta Sti cazzi Oh Mi sa che fai il giro Oh viene da qua Lo posso fregare Da qui No dai Ti sto per fare il dropshot Dai Oh Uccisione della vittoria Grande Guardatela Uh 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 Cicero della vittoria In dropshot Boom 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 Oh oh Quanto sono andato? Beh 16-20 Sono arrivato terzo Non è male Eeeh Ping 4 attack Voglio controllare un attimo Quanti headshot sono visti a fare Perché se non mi credo male Due o tre Più due che tre Allora Eeeh Vabbè qua fa vedere Sì Si è stato promosso Oh Propulsione furtiva Grande Cosa ottengo qui? Lo stimolante Gli stimolanti exo Allora io già dico che lo scudo È da togliere assolutamente X Ah proprio Eeeh 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 Ok va bene Sato un attimo Due colpi alla testa Ok perfetto Ne ho tirati due Beh non è andata malaccio Allora vediamo Modifichiamo la classe Allora lo scudo Allora potete vedere qua possiamo scegliere due specialità per ogni sezione Spero di non dover togliere nulla Allora Funzione exo no Non mi piace lo scudo Overclock E che Perché non va Ah ok adesso va Silenziatore I tuoi passi diventano silenziosi Promeno di te Beh direi per il momento di avere il silenziatore Vediamo se posso modificare la 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 k12 ho sentito che è ottima come arma Allora questo è scritto sbloccare uccidi 20 nemici Va bene dai non sembra che ci voglia tanto Ok possiamo iniziare subitissimo la partita Il match E vediamo Beh signori Diciamo la prima partita È andata Potevo fare un po' più di headshot Ne ho fatti solo due Però dai Almeno due le abbiamo fatti Due 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 Ne abbiamo fatti due Joystick Perché faccio ste cagate a volte Gioco Ok la smetto Via A k12 Eh ho scelto Ma sei scemo Perché non mi fa entrare Ma è scemo Ok questo gioco un po' mi preoccupa Dovrebbe Dovrebbe essere più facile fare headshot con questa Dovrebbe A giocare una vita A call of duty Una vita A giocare Per tutti i titoli Tranne advanced warfare Oh my god Su Xbox E poi passare a PS È un pochino Traumatico Non traumatico Per i tasti Per abito Ma quanti sono i nemici Eh sceso Signori questo proprio non l'ho visto Ok la connessione Dov'è la mia È quasi il massimo Sembra tre tacche Dove cazzo siete Bastardi Oh 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 Surprise Secondo me ne esce qualcuno da qui No Va bene Dai andiamo via Andiamo verso l'ignoto Oh oh Headshot Bitch Headshot Bitch Signori partenza alla gran Oh che cazzo è questo Porca l'ho visto No ma dai Volevo fare le headshot No 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 Cioè sono caduto come un idiota Allora abbiamo già realizzato Due headshot Inizio partita Molto promettente Porca Cioè questo è più scemo di me Cioè veramente figa Che cazzo fai Eh vai grande Ok ce ne stanno due qui No ma vaffanculo Stronzo Erano miei Eh si è un bastardo Dai 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 Eccolo qui Sì Come non detto No No Sì minchia Che mira di merda No Ah Ho ucciso No Eh ma vaffanculo però E vai Sempre in dropshot Signori Devo fare il road Tutto il recento head Dropshot Li realizzavo subito Porca puttana Eccolo qui Oh UAV Grande Chiamiamolo subito Grado 7 Grande Ah Qui anche dagli assist Per l'UAV Ottimo Come in Negli altri code Ok qua sto già finendo le munition Ok Che cazzo è sto coso Aspettate che cambio arma No Il pompa Il pompa no Prendo questo Mio Eccolo qui No Ah non è l'ibrido Ok Ah ok Boo Ok grazie guys Non lo so che cazzo è sto coso Dove sono i nemici Non ho capito come si spara signori Signori vi giuro non capisco Ma che cosa devo fare io Ma non ho capito che devo fare Boh Cioè partenza Bella promettente E adesso stiamo giocando da schifo Aspettate che voglio averlo sottotiro Disattivazione Disattivazione Accultamento Warbird Assistenza Warbird richiesta Siamo messi male Addosso Ah Drone ricognitore Attivato Dammi la K Vabbè dai Ne ho ammazzato uno Ah quindi Quando Quello supporto Può avere Ok ho capito No è amico Ma sei scemo Là ce n'è uno Molto in lontananza Ecco qui Ah e vai Ci rivendi cinque nemici Con leggero Grandi Non è headshot Peccato Occhio che qua Mi sa che ce n'è qualcuno No no E dai Ma dai Gli ho sparato quasi un caricatore E l'ho preso Solo hit marker mi fa Sì assist Almeno da 50 l'assist No Culo No Dove cazzo stanno Ah ecco lì Allora mi sa che ce n'è qualcuno Alle mie spalle Perché ho sentito sparare Amico Limite mappa No dai Fammi fare gli headshot Non è headshot Dai Eccolo lì Ah dai Vabbè ho capito No ma vaffanculo Sì impossibile Vabbè Ho fatto un attimo Controllo la camera Tutto da manuale Ah ok sta registrando Perfetto No non si sa mai signori Eh Ok signora Abbiamo finito due partite Abbiamo realizzato Una prima partita Ho fatto 26 Sono andato in positivo Stavolta Non è andata male Non è andata veramente male E Direi che per questo Primo episodio È tutto signori Vediamo intanto Prima di tutto Vediamo quanti headshot Sono riuscito a realizzare Sempre se si muove Muoviti Andiamo di 80 statistiche Anzi sfide Così si Ecco Colpo alla testa Uno solo Veramente uno Ma che cazzo dici Cos'altro Andiamo a vedere Allora andiamo a vedere È È Operativo Adesso un attimo Abbandoniamo la lobby Abbandoniamo Operativo Sfide Allora E siete sicuri Io veramente Mi sa Che ne ho fatti Carriera Boh Boh A me Mi risulta Quattro Boh Boh Vabbè Ma va bene Non lo so Poi vedremo Poi vedrò Quando renderizzerò il video Vedrò più o meno Come sarà Comunque signori Noi voglio direi che per questo Primo episodio Tutto Spero vi sia piaciuto Vi ricordo di votare Commentare e scrivere al canale Di mettere il piaccio A pagina di Facebook Su Twitter Di andare su G2A Se volete acquistare giochi Abbonamenti e dirci in sconto Noi ci vediamo nel prossimo episodio Di Call of Duty Advanced Warfare Road to 300 Headshot Beach Ci vediamo nel prossimo episodio Ciao Ciao